Ingegnere, buongiorno. Quanti scocciatori. Cosa volete da me adesso? Ingegnere, è vero che Niki Lauda lascia la scuderia? Sì, sì, è vero. Sembra che non gli piace la cucina qui a Maranello. Lauda è un grandissimo pilota, ma perdere un campione del mondo non impedirà la Ferrari di continuare a vincere nel futuro. Ho scoperto un bravissimo ragazzo canadese. Si chiama Gilles Villeneuve. Come? Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve. Sarà il prossimo numero uno. Andiamo adesso. Basta domande, per favore. Grazie, basta. Un'altra domanda. Oh ragazzo, non mangi? Devi mettere su un po' di ciccia. Sei magro come un chiodo. Così entro meglio nella macchina. Toh, forza, sono buoni. Posso mangiare un altro boccone? È buonissimo, ma non sono abituato a una tale abbondanza. Lui adora questo scibo, ingegnere Ferrari, ma una corsa di prova fa un'ora. A Gilles non piace correre al stomaco pieno. Piero, chiama Lauda e digli che lo rivolgo qui. Almeno a lui piace bere. Scusatemi, non mi sento bene. Papà, non insistere così, vuoi che si ammazzi? Non ho mai visto nessuno morire per un piatto di tortellini. Ma sei così fragilino anche quando è in pista. Siamo proprio messi bene. Siamo proprio messi bene. Siamo proprio messi bene. A quanto ha girato? Uno e dodici. Ah, buono. Aggiungigli il solito secondo, così non si monta troppo la testa. Ma, papà... Aggiungi... Va bene. Va bene. Aggiungi... 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 Aggiungi...